Ciao a tutti, andiamoci qua per la seconda parte della Leon's Deception Andiamo subito, oggetti ci sono, e via, così E' una comodità quello che hanno fatto questi giorni che diminuiscono il costo delle, come si chiama, di alcune quest Così si possono ripetere due volte e prendere un sacco di esperienza Attivo consiglio Sanlamia Tantissima, tantissima esperienza Intanto mi stanno continuando a massacrare Come l'altro video mi sono dimenticato gli antidoti Speriamo che non ne abbia troppo bisogno Anche perché questo qui sarà già più difficile come scontro Magari non riesco ad ucciderli subito Quindi mi avvelenano un bel po' Però avendo Tiara c'ho un 25% in più di danno Penso di potercelo fare Certo, se non mi paralizzano Logan Ah, però, complimenti Ok, vediamo se lo ammazzo Sì, perfetto E' sempre solo lui attacca Dai, però, no Stringono pure a curarli Maledetti Datemi le monete per i zel No, i sciardini Per craftare Adesso facciamo così Logan Facciamo curare Ah no, l'ho ucciso Che errore Doppio errore Solo mazzate Dovrei ucciderli Se ho usato tutti i brave bust Andiamo così E ancora no E' importante ammazzare Il ladruncolo che mi avvelena Maledetto Facciamo così E meno E via Dovrebbe essere a posto adesso Ok Volete sopravvivere adesso? No Bravi Simpaticissima Red Pelt Adesso lo facciamo per sicurezza Non voglio che mi avvelena più nessun altro L'ho pure catturato Ok Adesso Attacco con tutti Uno per volta Così mi rifaccio tutti i battle crystal E ho tutti i brave bust pronti Certo se non me li ammazzano Sarebbe anche meglio Eh peccato Eh quello di Ricker è forte Perché paralizza e avvelena Facciamo così Così ce li ho tutti pronti E curati Ah perfetto Ce li ho tutti Si dovrebbero essere I cinque ladruncoli O i quattro Cinque ladruncoli Tiffleons Double A B Sì Perfetto Facciamo subito così Meno tutti fanno danno acqua Eh gli ho tolto via tanto Mi sa che È fattibile Ucciderli Eh specialmente se tutti fanno danno acqua Eh Vediamo se non fanno troppi attacchi Veleno Proprio Manetta Vediamo un po' Questo muore Perfetto Eh anche questa è andata Dai Ok Facendo anche il prossimo Poi dopo mi danno una gemma Che pizzerra I need gems I need more gems Vai E via Perfetto E anche la parte 2 È andata Ci vediamo per la parte 3 Ok Prossimo video Ciao 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 Ciao